Il riflesso da immersione Si definisce riflesso da immersione un insieme di reazioni a carico del sistema cardiovascolare e respiratorio che hanno luogo in tutti i mammiferi, soprattutto quelli marini, cetacei, pinnipedi, eccetera, quando sono immersi in acqua. Il riflesso da immersione è attivato dal contatto dell'acqua fredda con il volto. Le variazioni fisiologiche che si producono sono principalmente riduzione del battito cardiaco, bradicardia, vasocostrizione periferica e afflusso del sangue principalmente negli organi vitali, cuore e cervello. Aumento medio della pressione arteriosa Le variazioni fisiologiche prodotte dal riflesso da immersione sono tutte finalizzate alla riduzione del consumo di ossigeno. Sebbene l'uomo non sia un mammifero prevalentemente acquatico, il riflesso da immersione in noi si presenta in modo particolarmente sviluppato.